Buongiorno a tutti, sono Alessia Freda, Group Talent Acquisition Manager di Kirei. Kirei Group è una società informatica, un system integrator che lavora in modalità consulizia. Siamo 900 dipendenti, è un gruppo italiano con un aspetto multinazionale. In Italia siamo distribuiti con uffici da Padova a Catania e siamo presenti anche all'estero. In Spagna, in Portogallo, in Messico, nell'Europa dell'Est, abbiamo anche una branch commerciale in Kenya. Siamo sempre alla ricerca di giovani diplomati che abbiano scelto un percorso di alta formazione e che abbiano voglia di investire le loro risorse e il loro potenziale nell'ambito informatico, evidentemente, ma siano curiosi e veramente con una volontà di imparare cose nuove in modalità continua. perché l'informatica è un settore in continua evoluzione.